Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Il video di oggi è un video molto, molto stressante da fare. La felpa tra l'altro di Star Wars non è a caso, perché davvero la forza deve essere completamente con me oggi, perché andremo a parlare di lui, Regina delle Tenebre di Cassandra Clare. Ok, metto il libro qua perché dopo averlo tenuto mentre leggevo, voglio chiedere risarcimento a Cassandra Clare, visto che le braccia mi stavano per crollare ogni volta che prendo in mano questo libro. Quindi lo mettiamo qua dietro, così potete anche vedere la cover, che è questa. Voglio mettere le mani avanti ovviamente ragazzi, dicendo che questa è esclusivamente la mia opinione. Non voglio dire che tutto quello che dirò nei minuti successivi sia la verità, cioè nel senso, questa è una mia opinione e come lo penso io dopo aver letto questo libro. Prima di iniziare a parlare del video facciamo un po' di prologo a tutta questa situazione. Sarà un discorso fatto un po' a cavolo, non so se riuscirò veramente a dire quello che voglio dire in maniera sensata, con una logica, perché io quando faccio questi video book talk sono video sfrenati e come se fossi proprio davanti a una persona e mi sfocassi con lei. Quindi quello che mi viene in mente lo dico, ma cercherò di essere il più chiaro e il più sistematico possibile. Il video sarà diviso in due parti ovviamente. Nella prima parte senza spoiler, quindi chi non l'ha letto ancora Regione dell'Ade e delle Tenebre può guardarla tranquillamente. Nella seconda parte invece andremo a parlare più in profondità, quindi ci saranno spoiler e quindi se non avete letto questo libro vi consiglio di non guardare l'ultima parte, comunque io vi avviso quando incomincio a fare spoiler e magari ritornate quando avete già letto il libro. Benissimo, ora possiamo cominciare. Comincio con il dire che Regione dell'Ade e delle Tenebre è un libro che mi ha davvero, davvero fatto arrabbiare tantissimo. Per me Shadowhunters è una delle serie più importanti che ho in libreria, una delle serie più importanti che abbia mai letto perché come Twilight o Harry Potter o Aragorn, comunque sono serie che mi hanno formato, mi hanno veramente visto crescere, me le porto avanti da anni, quindi sono veramente molto molto importanti. Amo il mondo di Shadowhunters, amo in modo particolare i suoi personaggi, Cassandra Clare se c'è una cosa che è capace di fare, secondo me, è creare personaggi davvero magnifici che riescono veramente a entrarti nel cuore. È una delle cose che apprezzo di più nei suoi libri, seguire la storia dei suoi personaggi. Ed è per questo che continuo a leggere i libri di Cassandra Clare. Infatti anche se questo libro per me ha problemi enormi, io continuerò a leggere i libri di Cassandra Clare, visto che appunto non finiranno qua. Regina dell'Aria delle Tenebre è il terzo ultimo libro della trilogia The Dark Artifice, cominciato con La Signora della Mezzanotte e proseguito con Signora delle Ombre e finito qua. Ma ovviamente questa non è la fine, infatti abbiamo altre tre serie in cantiere. La prima è quella incentrata su Magnus e Alec, che uscirà ad aprile, il 9 aprile, e a maggio-giugno in Italia. Io la leggerò ma non sono così tanto interessato, devo ammetterlo. Poi abbiamo l'unica che mi interessa veramente tanto, che è The Last Hours. Chain of Gold è il primo libro uscito al 19 novembre e racconta la storia dopo le origini. Ci troviamo all'inizio del Novecento e sembra veramente molto interessante, è l'unica che mi intriga parecchio. Infine abbiamo la prosecuzione di questa, che è The We Get Power, ovvero la trilogia che uscirà nel 2022 più o meno, è incentrata su Ty e Kit, che sono ovviamente i personaggi che abbiamo conosciuto qua. E quindi poi ci saranno anche tutti gli altri, compresi tanti altri personaggi. Non vi dico perché spoiler, ne parleremo comunque nella parte uno spoiler. Ok, ora dopo tutto questo cominciamo a parlare di questo libro. Cassandra Clare non ha più idee, non sa dove andare a sbattere la testa, e io non comprendo come continui incessantemente a proporre ai suoi lettori cose che abbiamo già letto, cose che conosciamo, situazioni che si ripetono all'infinito e che al lettore, secondo me, prima o poi stanca. Siamo arrivati veramente alla frutta con la storia del mondo di Shadowhunters. Sogna darci un taglio Cassandra Clare. Credo che sia arrivato davvero il momento di farlo. Stop, finiscila. Il fatto è questo, La Signora della Mezzanotte, secondo me, era iniziata a bomba. Veramente bellissimo, avevo adorato tutto. È vero, anche lì, la maledizione di Emma Julian, questo amore proibito, tanti temati che comunque avevamo già conosciuto, abbiamo già letto in libri di Cassandra Clare, ma comunque, secondo me, aveva presentato un ottimo nuovo cast di personaggi. C'erano anche quelli che avevamo conosciuto nelle serie precedenti, quindi, secondo me, La Signora della Mezzanotte era veramente un inizio molto, molto valido. Io avevo apprezzato tantissimo. Signore delle Ombre, che al secondo libro, aveva cominciato a mostrare i suoi primi problemi, ovvero la metà del libro è dei lidi del cuore, come ho deciso di chiamarli, ovvero personaggi che non sanno con chi mettersi e ci sono tutte le problematiche del caso. Io non posso stare con te per questo motivo, io non posso stare con te per questo altro motivo, quindi ci lasciamo, poi ci rimettiamo in cempe, ci baciamo, facciamo questo, facciamo quest'altro. Deliri di cuore, ragazzi, veramente in ogni dove. Per metà del libro era così. E questa cosa a me aveva esasperato in Signore delle Ombre, davvero esasperato. Qua sono 800 pagine. 800 pagine in cui io non ho visto veramente niente. Non c'è niente in questo libro. Tutto quello che Cassandra Clare ha messo in Regina dell'Ari delle Tenebre è un trampolino di lancio per i libri successivi. Ed è per questo che qui non succede praticamente niente. Le cose che succedono sono davvero poche. Per essere un libro di 800 pagine, io mi aspettavo davvero una trama comunque prorompente, in cui ci fossero continui plot twist, ma proprio cose comunque molto sostanziose. Invece assolutamente no. Ci sono situazioni che ci portiamo avanti dalla prima all'ultima pagina senza arrivare a qualcosa di concreto. Possiamo dividere questi libri di Cassandra Clare, visto che c'è un cast di personaggi così tanto ampio, in due parti. Ovvero c'è la storia principale in cui tutti i personaggi comunque hanno degli obiettivi in comune, chi meno chi più. E poi ci sono personaggi che invece vanno a braccetto. Quindi ci sono situazioni in cui seguiamo solo unicamente la loro storia. Quindi abbiamo Tai e Kit, Emma e Julian, Mark, Cristina e Kieran. Comunque questa cosa è qui e noi portiamo avanti queste storie. Vediamo proprio in queste storie che vanno a braccetto come Cassandra Clare abbia usato i suoi personaggi per poi portarli in altri libri. Cioè è come se stesse scrivendo libri per scriverne altri. Cosa che non ha senso perché non c'è più nessun senso proprio nello scrivere altri libri su questo mondo visto che non è più niente da raccontare. Ci sono delle cose che ovviamente mi sono anche piaciute in questo libro. Non lo nego. Cioè nel senso non è un libro che mi ha fatto così tanto schifo. Assolutamente no. Anche perché comunque ho deciso di continuare a leggere Cassandra Clare. Alcune cose sono secondo me davvero molto valide. Ho rivalutato parecchio alcuni personaggi. In modo particolare Tai che mi era sempre rimasto un pochino indifferente. Qui non so per quale motivo. Sarà anche per il suo rapporto con Kit. Mi è piaciuto davvero tanto. Anche se la parte con Tai e Kit secondo me ha le sue problematiche che parleremo comunque nella sezione spoiler. Mi è piaciuto tantissimo come è stato trattato il tema della politica. La situazione politica del mondo dei Shadowhunters è davvero in bilgo in questo terzo libro. E diciamo che è una delle basi portanti della storia di questo terzo libro. E vediamo che alcune persone cercano quasi di instaurare un regime di tolitarismo. E è molto interessante. Mi è piaciuto davvero tanto perché Cassandra Clare è stata veramente capace di strutturare questa cosa e di far percepire secondo me al lettore la gravità di questa situazione. Ci sono questi personaggi che vogliono avere il controllo sul mondo dei Shadowhunters ed escludere il mondo dei nascosti che ricordano un po' comunque i regimi fascisti o nazisti in cui volevano appunto la supremazia della razza, in questo caso quella di Shadowhunters e invece l'esclusione dell'altra razza, quindi i nascosti fate, streghe, vampiri, licantori, eccetera, eccetera. L'ho trovato molto bello, davvero molto interessante. Ho avuto un disprezzo per personaggi come Zara, suo padre, davvero incredibile. E quindi questo sicuramente è un punto a favore del libro. Ce n'è tanta di questione politica. Non l'ho trovata pesante, a parte che io sono un fan della politica nel mondo fantasy. Mi piace davvero tanto quando è strutturata bene. Secondo me Cassandra Clare è riuscita a centrare appieno il punto della questione. Altra cosa che comunque ho apprezzato è sicuramente anche lo stile di Cassandra Clare nel senso che io sono riuscito a mangiarmi 800 pagine in pochissimo tempo. Questo perché comunque è molto scorrevole. La storia, per quanto veramente non succede niente, è molto statica in alcuni punti. Secondo me si fa leggere molto bene. Io apprezzo sempre questo fatto di Cassandra Clare. Comunque riesci sempre a farti entrare nella storia. Anche se poi alla fine potrebbe risolversi con una batosta e una delusione allucinante. Comunque riesci sempre a portarti alla fine, secondo me. O almeno è questo che ho provato io. Ammetto che arrivato a metà libro non vedevo più la fine. Questo è vero. Devo dire anche che la prima parte, secondo me, è stata molto più bella rispetto che la seconda. Il finale è di un delirio assurdo. Cassandra Clare, io me la immagino a scrivere sul computer. La parte finale è, tipo, me la immagino a così, proprio deliri incredibili. Perché, secondo me, per scrivere quello che ha scritto nell'ultima parte, ecco, qualche funghetto da Amsterdam gli è arrivato. Perché se no io non ci credo che abbia potuto concepire qualcosa del genere. Sia nell'usoluzione della battaglia finale, che ne parleremo anche lì sulla sezione spoiler, e ragazzi... E poi proprio il finale, che è tutto molto corale, molto mamma mia... No, no, io no, non ho apprezzato, non ho apprezzato molto. Comunque, questo è quanto volevo dire, per la parte non spoiler, anche perché ho tanto da dire nella parte spoiler, quindi passiamo oltre. Se ancora non avete letto, quindi, Regina dell'Area e delle Tenebre, noi ci vediamo prossimamente. Se vi va poi, tornate quando avete letto il libro. Invece, per chi ha letto Regina delle Tenebre e vuole lamentarsi con me, andiamo. Partiamo dalla situazione di Ty e Kit, che secondo me è una delle situazioni più esemplari del fatto che Cassandra Clare sta scrivendo questi libri solamente per aggiungere altri libri. Altri libri che non hanno motivo di esistere. Ty e Kit, in questo libro, per 800 pagine, ragazzi, 800 pagine, hanno una missione. Solamente una missione che si risolve in niente. Questa missione è, appunto, riportare Livi in vita. Ty decide di affrontare il lutto di Livi in questa maniera. Vuole riportarla in vita, vuole la sua gemella con sé. Capisco anche, comunque, questa decisione, cioè il voler far qualcosa. È sicuramente la persona che soffre di più questa morte. E ci sta che magari un personaggio, soprattutto un ragazzino come Ty, reagisca in questo modo. Cioè fare qualcosa di impossibile, qualcosa di potenzialmente molto pericoloso, no? Per tutti quanti. Ci sta. Accetto questa cosa. Ma non accetto che tu per 800 pagine a questi due pericristi, ovvero Ty e Kit, gli fai fare solo questo. Loro vanno alla ricerca di un modo per riuscire a portare Livi in vita. Lo trovano questo modo. E poi Livi, ovviamente, gli dà il due di picche perché non può tornare in vita. E la storia di Ty e Kit finisce in questo modo, per 800 pagine. Aggiungiamo solamente il fatto che Kit scopre qualcosa di molto importante su di sé, ovvero che non avrete perduto della fate, eccetera, eccetera. Però, a parte questo, tutto questo perché? Perché Ty e Kit non fanno niente in queste 800 pagine? Perché Cassandra Clare inizia una situazione nelle prime pagine e ce la porta fino alla fine senza concludere assolutamente nulla? Per scrivere The Wicked Power, che è la serie che continuerà questa. Ha fatto questa scelta solo e unicamente per continuare a scrivere altri libri. Cosa che invece poteva benissimo risolvere in questa. Se aveva una storia un po' più grande per Ty e Kit, poteva, secondo me, aggiungerla qua. Cioè, fare qualcosa di molto più semplice, renderla molto più interessante e molto più accattivante. Non far perdere tempo a nessuno, perché secondo me ci sono proprio parti che ti fanno perdere tempo, perché sono veramente il nulla. Perché scrivere un'altra trilogia? Per quale motivo? E ancora, un altro esempio, è l'universo di Tule. Cassandra Clare decide di mettere questo universo parallelo, dove Sebastian ha vinto la guerra oscura. Alcuni personaggi sono morti, come Magnus e Alec. Alec che si uccide perché Magnus è morto, Jace che sta insieme a Sebastian, Clary che è morta, Libby invece è vita, Ty è morto. Cioè, una cosa assurda. E in questo universo ci vanno Emma e Julian. Allora, questo universo anche qui, messo con l'unico scopo di far tornare questo Jace cattivo nell'universo vero e proprio, nell'epilogo, e poi vedere come proseguiranno le cose nella nuova trilogia. Perché? Qual è il senso di tutto questo? Non ce l'ha, non ce l'ha. Secondo me questo libro poteva essere risolto in modi completamente diversi. Completamente diversi. Fare qualcosa di molto più ristretto. Perché 800 pagine questo libro non necessitava di 800 pagine, potevano essere veramente la metà. Poteva essere molto più corto, molto più bello, molto più sintetico, più dritto al punto, con qualcosa da dire. Ma questo libro non dice assolutamente nulla. Quindi anche questo mondo parallelo di Thule in cui le cose sono andate a scatafascio, fatto solo unicamente per scrivere altre storie. Passiamo poi alla situazione Mark e Kieran e Cristina. Io scippo tantissimo Mark e Kieran da sempre, li amo tantissimo e l'unica cosa che volevo da questo libro era farli finire insieme. Sapevo che era un po' improbabile questa cosa perché c'era Cristina di mezzo. E se da una parte ho capito perché Cassandra Clare ha deciso di farli finire tutti i tre insieme, quindi creare questa relazione poliamorosa che ci sta ed è anche una tematica molto interessante da trattare. Secondo me l'ha anche trattata nei modi giusti. Allo stesso tempo però non ne capisco il motivo. C'è grande confusione in questo triangolo e io veramente un attimo lo li alibito perché ci sono capitoli su capitoli su capitoli di questi tre poracci che una volta è Cristina la punta del triangolo e questi altri due stanno in basso e se la contendono. Una volta è Mark la punta del triangolo e poi ci stanno Cristina e Mark e Kieran sotto che se lo contendono. Poi una volta è Kieran alla punta del triangolo. C'è un miscuglio assurdo dove si fa una confusione tremenda e anche qui deliri su deliri su deliri. Problemi, drammi, amorosi. Ma basta, esasperante. Mettici un punto Cassandra Clare, mettici un punto. Tutta questa situazione per farle finire insieme. Tutti e tre hanno questa relazione un po' l'amorosa. Che ripeto, è anche interessante come tema. È un tema che sicuramente non viene trattato. E Cassandra Clare insieme alla tematica transgender secondo me ha veramente inserito dei temi inusuali, molto delicati e l'ha fatto anche in maniera secondo me convincente. È stata brava, tra virgolette, comunque a creare il regame tra Cristina, Mark e Kieran. Anch'io leggendo comunque il libro pensavo, cioè, è impossibile che uno possa scegliere l'uno o l'altro. Cioè, il loro rapporto è così stretto, così collegato, che è molto difficile. È logico che finirà in un'azione poi l'amorosa e così è stato. L'accetto, non l'accetto, non lo so, me ne faranno ragione, però no, no, non l'accetto, ecco. Non l'accetto, mi è piaciuto come è stata trattata la cosa, però non l'accetto. Questi sono i colpi di Cassandra Clare. Passando a Emma e Julian, Julian che si fa togliere i sentimenti da Magnus, quindi diventa un bastardo. E Emma non lo può vedere giustamente. E mi è piaciuta molto Emma in questo libro, se devo essere sincero. Julian un po' di meno. Non lo so, la loro relazione secondo me anche qui è stata un po' esasperante. Come si è conclusa poi è ancora peggio e qui mi ricollego al picco del trash e del delirio più assoluto. Io non pensavo che Cassandra Clare potesse scrivere una cosa del genere, ma l'ha fatto. Come far concludere la storia di Emma e Julian e la battaglia finale, ragazzi, la battaglia finale? Emma e Julian diventano giganti. Cioè, io per un attimo ho visto il crossover tra l'attacco dei giganti e Shadowhunters e non ci volevo credere. Avevo paura di girare pagina e di trovarmi Erren e Levi che saltassero da una parte all'altra e combattessero insieme ai Shadowhunters. Cioè, un attimo è stato veramente il panico. E come facciamo a finire tutto? Con un momento corale, strappalacrime, in cui tutta la famiglia Blackthorn riunita ricorda a Julian e Emma i motivi per cui li vogliono bene. Anche qui ritornano stile guerriera Sailor in procinto di morire durante le battaglie. Si fanno forza o null'altra e così riescono a sconfiggere il male. Allora, personalmente non l'ho trovato né emozionante né niente. L'ho trovato sciocco. Tremendamente sciocco, tremendamente sentito. L'abbiamo già vista una cosa del genere, è ripetuta. E tutta la situazione parabetale come finisce, siccome Emma e Julian sono diventati giganti, come uno sticker la runa parabetale scompare. E quindi la maledizione è sconfitta. Emma e Julian possono stare insieme tutti felici e contenti. Ora, sapevamo fin dall'inizio che Emma e Julian sarebbero finiti insieme, alla fine della storia. Ma davvero questo è il modo? Cioè, tu mi hai scritto tre libri dove la loro relazione era questa maledizione che non poteva essere spezzata, dove c'erano questi mille problemi, una sofferenza totale, li ha fatti stare malissimo a questi due pori cristi, e tutta sta cosa tormentata. Così la fai finire con, lo lo so, diventati giganti, quindi la maledizione, chi si è visto si è visto, la runa parabetale non c'è più. Vabbè. Ok. Passiamo all'ultima cosa, che è una delle cose per cui sono davvero più amareggiato, e poi la finiamo qua perché sennò veramente mi parte l'embolo. Parliamo di Annabelle. Annabelle è il cattivo della situazione, il nemico da sconfiggere, no? Ci è stato presentato come un personaggio molto cattivo, affascinante, un personaggio senza scrupoli, davvero temibile. Io sono sempre rimasto molto affascinato dalla sua figura, ma qui Annabelle, ragazzi, è il nulla più totale, perché Annabelle non fa niente per tutto il libro, è un personaggio che è passivo in questo libro, praticamente non va a creare nessun problema, è un cattivo dimenticato e muore così. Lo vediamo in una pagina e la successiva è morto, e chi si è visto si è visto, è finita lì. Davvero? Ma davvero? Cioè il cattivo della situazione, il cattivo da sconfiggere, è morto dal nulla, senza un senso. Addirittura tu ci hai chiamato il libro, perché appunto Annabelle è la regina dell'area delle tenebre, hai dato il nome di questo personaggio cattivo al libro per non fargli fare niente, non ha un apporto alla trama minimo, anzi ce l'ha minimo, perché... Cioè lei sostanzialmente non ce l'ha, e quindi... Ma veramente... Ma il senso? Cioè qual è il senso di questa cosa? Perché? Perché? Per quale motivo? Davvero in 800 pagine non hai avuto modo, e soprattutto idea per fargli fare qualcosa di davvero incredibile, di davvero cattivo, di davvero epico questo personaggio. Ragazzi, la Claire è colei che ha inventato il personaggio di Sebastian. Cioè Sebastian credo che sia uno dei personaggi cattivi, più belli nel panorama Young Adult. E poi mi crei questa Annabelle e me la fai finire in questo modo. Boh, ma dov'è la Claire che abbiamo conosciuto? Appunto non c'è più... Non ha più idee, non ha più sostanza, non ha più quella... Non è che non ha più idee, non ha più idee nel mondo di Shadowhunters, ma perché semplicemente di idee non ce ne possono essere più. Un mondo che da tanti anni ormai è stato scavato e riscavato, in moltissimi modi. Quindi, secondo me, portare altro, anche e soprattutto di personaggi che abbiamo già visto, come Jace e Clary, che vedremo nei prossimi libri, perché appunto nell'epilogo questo Jace cattivo ritorna da questo mondo parallelo per cercare la Clary di quel mondo, perché la loro storia l'hai raccontata, l'hai raccontata, ce l'hai riproposta, perché comunque anche in questa serie ci sono e sono presenti, anche se in maniera minore però ci sono, così come quella di Magnus, quella di Alec, Simon, Easy, tutti quanti. Sono storie che noi conosciamo, sono storie che hanno avuto il loro lieto fine, perché Cassandra Clare decide che le cose devono avere solo un lieto fine. Quindi, basta, non c'è più senso, perché vai a rovinare tutto quello che hai creato? A me dispiace tanto, perché io credo che Shadowhunters, in modo particolare le serie originali, ovvero quella dell'Origini e The Mortal Instruments, siano, per quanto mi riguarda, nel mondo, nel panorama young adult, alcune delle più valide, sia per la storia che per i personaggi che sono meravigliosi. Quindi non capisco il senso di andare a rovinare questo mondo che era bellissimo e che ora sta piano piano distruggendo, con le sue stesse mani, perché non è più lei, non è più Cassandra Clare, non è riconoscibile, i suoi personaggi anche qua comunque perdono qualcosa, alcuni di loro. Non capisco, non capisco davvero tutto questo, è una cosa che mi fa veramente, veramente rabbia, mi dispiace un sacco. Io credo di aver concluso, e probabilmente ho tante altre cose da dire, ma questi video li faccio, e quello che mi viene da dire dico, e quindi probabilmente mi sono scordato un sacco di cose, quindi perdonatemi. Voglio un confronto con voi, se magari vi è piaciuto, fatemi sapere cosa vi è piaciuto, i motivi per cui vi è piaciuto, e se non vi è piaciuto, ditemi quello che non vi è piaciuto, se la pensate come me, oppure se ci sono anche altre cose, che non avete apprezzato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo a un prossimo video.